Eccoci qua, buongiorno, siamo arrivati a Manopello in provincia di Pescara, una bellissima giornata ci ha accolto, quello alle nostre spalle è il santuario del volto santo di Gesù, santuario che custodisce quello che è considerato il sudario di Gesù, un'immagine che tra poco vedremo, un'immagine che raffigura un volto con la bocca aperta, con gli occhi aperti che la fede ci sta a testimoniare, che racconta proprio il primo momento in cui Gesù ha aperto gli occhi dopo la risurrezione, quindi andremo proprio a venerare questo santo volto e cercheremo di capire come è arrivato qui a Manopello, in questo luogo tra la Maiella e il Gran Sasso, che cosa significa anche per questo territorio custodire questa reliquia di Gesù, quindi a tra poco. La domanda che volevo girare a padre Carmine Cucinelli che è il rettore del santuario del volto santo qui a Manopello, intanto siamo entrati nel santuario, alle nostre spalle sopra all'altare c'è l'immagine del volto santo, tra poco ci avvicineremo nel prossimo collegamento. Padre Carmine, Manopello, volto santo, parlavano di autostrade dell'amore in studio, che cos'è e come è arrivato qui il volto santo? Attraverso quale strada? Una strada misteriosa che solo il Signore sa. Noi l'abbiamo ritrovato qui, probabilmente durante il sacco di Roma è avvenuto questo misterioso avvenimento. Un pellegrino lo preleva per non farlo distruggere dai lanzichenecchi e lo porta a Manopello, lo consegna ad un medico raccomandandoli di averne cura, ma dopo aver detto questo sparisce e scompare misteriosamente. Questo ha dato adito a un'interpretazione spirituale. Diciamo questo pellegrino poteva essere stato un essere celeste, insomma, un angelo. E quindi poi questo velo è rimasto nella casa di un privato per tanto tempo e poi un altro se ne è in possessa, un militare, lo tiene dieci anni e poi però finito in carcere è stato costretto a vendere il velo con il volto di Gesù per uscire dal carcere e ricavare un po' di soldi. E la moglie di questo militare ha fatto tutto questo. L'ultimo possessore dopo che l'ha tenuto per alcuni anni l'ha regalato ai frati Cappuccini con un obbligo morale di farlo conoscere, di diffonderne la devozione. E quindi da allora, praticamente dal 1636, questo velo si trova in questa chiesa. Ecco, appunto, parliamo proprio di un velo, quello che poi la tradizione e anche le ricostruzioni scientifiche dicono sia il sudario di Cristo. Sì, prendiamo l'esempio quando si trovava a Roma, dove fu appunto salvato. Si trovava nella cappella dove era oggi la pietà del Michelangelo, la cappella della Madonna, custodito in un dembietto dedicato al santo sudario. Quindi per la curia romana, per i romani era il santo sudario. Però il popolo lo chiamava Voltosando oppure Veronica, con l'accezione di vera immagine. E allora, ci fermiamo qui per questo primo collegamento. Adesso ci spostiamo, andiamo proprio dietro l'immagine, anche per farvi poi notare questa cosa, che l'immagine è visibilmente perfetta, sia fronte che retro. Quindi ci spostiamo tra qualche minuto ancora qui dal santuario di Manopello. Mamma mia, grazie, grazie Enrico. Grazie al santuario di Manopello. Saliti. Mamma mia, guarda qui. Siamo proprio al cospetto del Volto Santo e ringraziamo Padre Carmine e la comunità dei cappuccini qui di Manopello per averci aperto anche il vetro blindato che ovviamente dà un minimo di protezione a questa immagine che vediamo sia impressionante, anche Padre Carmine ci diceva che è perfettamente sovrapponibile all'immagine della sindone e al telo di Oviedo. Sì, è così. Hanno le stesse misure e corrispondono perfettamente quando vengono sovrapposte l'uno all'altro. La cosa interessante è che questa immagine così la vediamo illuminata. A secondo di come si illumina cambia espressione. Questa è anche una particolarità del tessuto che è stato utilizzato. Possiamo provare proprio a cambiare luce e vedere che effetto fa. Intanto la raccontiamo. Questo velo, secondo alcuni scienziati, è fatto di bisso marino. Il bisso marino è un, diciamo, una bava che produce la pinna nobilis e quindi ha una particolarità speciale che è idrorepellente e poi cambia colore quando si viene illuminata in un modo diverso, come possiamo vedere noi ancora da qui. Senza la luce il velo è trasparente. illuminato da una parte si vede un volto, per così dire, sereno, la bocca un po' chiusa, gli occhi che guardano lontano. illuminato dalla parte nostra è un volto più sofferente, la bocca aperta che fa vedere i denti, gli occhi hanno il bulbo oculare bianco e le ferite sono guarite. E quindi, di nuovo, così, questo fenomeno l'abbiamo scoperto durante la processione, quando portiamo in processione il volto santo, quando viene illuminato dal sole, in un vicolo, per esempio, dove non c'è il sole, si vede la trasparenza, quando viene illuminato direttamente da un lato o dall'altro si vede questo fenomeno così speciale. Però è impressionante perché ci fa vedere un volto vivo che ci guarda e ci parla. E noi, attraverso la sindone, attraverso il volto santo di Manopello, abbiamo un po' anche la cronistoria di quello che è accaduto in quella mattina di Pasqua. C'è proprio una teologia del volto santo che ci dice che cos'è accaduto, anche proprio a livello storico. Sì, è probabile, dicono gli scienziati, che al momento della risurrezione Gesù ha fatto uscire dal suo corpo una grande energia di luce, possiamo dire. Quindi nel primo momento, come quando noi ci svegliamo, abbiamo gli occhi chiusi, questa energia è stata fortemente calorica, che ha bruciato la prima parte del filo del tessuto della sindone, facendo imprimere in quel telo la forma del corpo di Gesù uguale nella parte frontale e dorsale. Poi è venuta la luce, questa energia si è trasformata in luce e quindi ha impresso sul velo il volto vivo risorto di Gesù, quindi con gli occhi aperti. Ecco la differenza tra occhi chiusi e occhi aperti, come quando noi ci svegliamo. Nel primo momento abbiamo gli occhi chiusi, poi pensiamo, mi sono svegliato, apriamo gli occhi. E anche il messaggio che parte da Manopello, che vogliamo anche magari mandare anche noi da qui attraverso i padri, per quello che sta accadendo anche in Italia oggi, che è un venerdì, diciamo così, santo, che questa immagine pasquale aiuti anche a suprare questo momento particolare che stiamo attraversando. Ovviamente sto parlando al problema del coronavirus e quello che sta accadendo. Sì, in effetti il volto di Gesù già alla madre Pierina Micheli, che aveva preso un'immagine di un vittore locale di Torino per fare la medaglia, insomma, questa santa donna e suora voleva consolare Gesù. Gesù, nell'apparizione, le ha detto che in quel momento così difficile per quel tempo occorreva proprio il volto di Gesù, cioè rappresentare la passione di Gesù che per noi ha sofferto la croce e la morte. Grazie Padre Carmine per questo momento intensissimo. È stato un privilegio essere qui con voi oggi a Manopello, al cospetto del volto santo. La linea può tornare a Roma. È ricco.